oggi ho preparato per voi la besciamella è una preparazione che non sempre di facile riuscita con il nostro messier cuisine connetto plus devo dire che io ho provato diverse ricette questa è quella che mi soddisfa maggiormente sia come consistenza che come sapore e andiamo a seguire il video per vedere quali sono gli ingredienti ma soprattutto qual è il procedimento di cottura della besciamella per farla uscire bella densa gli ingredienti necessari per la preparazione della besciamella sono un litro di latte preferibilmente a temperatura ambiente 100 grammi di farina 00 50 grammi di burro un cucchiaino di sale del pepe e della noce moscata in quantità variabile a seconda dei vostri gusti in più avremo bisogno dell'accessorio mixer o farfalla la prima cosa che facciamo è posizionare l'accessorio mixer nel boccale ed inserire nel boccale il burro quindi andiamo a mettere l'accessorio mixer mettiamo il burro mettiamo il coperchio e andiamo ad impostare il nostro robot metteremo due minuti come tempo velocità 1 e 60 gradi di temperatura diamo il via il burro si è sciolto quindi mettiamo gli altri ingredienti il latte la farina il sale il pizzico di noce moscata e un po di pepe adesso andiamo a mettere il coperchio e andiamo ad impostare i tempi di cottura imposteremo 20 minuti 20 velocità 3 a 100 gradi ovviamente lasceremo aperto il buco del misurino per consentire un addensamento migliore il tempo è terminato andiamo a verificare questa è la nostra besciamella guardate com'è bella densa adesso andiamo ad aspettare che si freddi perché freddandosi si addenserà ancora di più intanto la vado a trasportare in una ciotola la nostra besciamella è pronta mi raccomando giratela spesso durante il processo di raffreddamento perché potrebbe formarsi una pellicola dura sulla superficie vi faccio vedere la consistenza guardate è perfetta molto simile a quella comprata spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e vi invito a iscrivervi a questo canale in cucina con messier e vi invito inoltre a iscrivervi al gruppo facebook messier chiusi in connect plus italia e se volete a seguirmi sul sito www.messiericette.it e buona besciamella per tutti